C'è l'interview, si incontra Marcello Simoni, uno scrittore di fama internazionale, con cui parliamo, qui a Ferrara, del suo nuovo romanzo. Mi marco di inquisitora, il 15 di novembre, libreria, che speriamo presto anche all'estero, e nel frattempo, che siamo a Castello, parliamo anche di miei romanzi medievali, usciti a tutti di recente. Marcello Simoni, for JL Interviews Magazine. Ciao. Grazie a tutti.